Oggi è iniziato il primo appuntamento del corso di formazione obbligatorio che tutte le estetiste sono attuneate a fare nell'arco di 5 anni, ogni 5 anni diciamo nella propria professione. Un corso appunto rivolto alle professionisti appunto del settore in cui si parla soprattutto dell'area igienico-sanitaria. Nel 2019 inizieremo un nuovo percorso che sarà molto intenso sotto il profilo formativo con una serie di appuntamenti che tendono proprio a valorizzare ancora di più la professione, le capacità appunto dell'estetistico. Questo proprio per minare sempre di più il rapporto appunto con l'utente finale.